mister topolini prosegue alla grande vi presento subito un altro aspirante mister questo biondissimo ragazzo nome raffaele raffaele mi sembri molto giovane 16 anni 16 anni infatti sei molto giovane sono proprio curioso di sapere chi sei cosa fai dove vuoi arrivare perché sei qui una cosa alla volta dai intanto cosa fai di bello nella vita studio vado adesso prossimo anno a scuola andrò all'inaip mi piacciono i scooter i motori hai uno scooter immagino 22 tu sai che noi qua il premio di mister è proprio quello di avere uno scooter no infatti mi divertirà con quello ok bene senti come che tipo sei di solito determinato timidone dolce romantico un po timido però con gli amici non mi diverto dopo un po c'è dopo un posso incontrare il timido con gli amici ho capito ho capito senti se un ragazzo molto alla moda è con questa pettinatura schiaffo come diciamo noi no tutta piegata mi pare di capire che sia molto attento alla moda circa non è che seguo però ti piace curarti ok bene senti quella telecamera anche per te è ben arrivato mister topolini l'opportunità di salutare dire tutto ciò che vuoi bu non so non so puoi salutare la mamma la fidanzata il papà la mia ragazza che mi guarda e in bocca al lupo grazie ciao ciao Grazie a tutti